valleggia 28 ottobre 2018 all'erta arancione fino alle ore 15 il tempo è questo quella è villa garrone questo crinale è il confine con il comune di savona la c'è la val quazzola quindi di sopra c'è cadimona quei monti che la dietro che non si vedono sono il confine con altare lassù ci sono le pale eoliche del monte murotto e la situazione è questa poco fa una ramata d'acqua pazzesca quindi siamo a valleggia l'abice loca di buona altare monte murotto